La donna mi ha fatto trovare in un letto pieno di sangue. Il demonio molte volte diceva queste espressioni. Teodagnone, puzza, puzza di santità. È un colosso di santità che ha fatto piacere al Signore. E il Signore si è servito di lui per tanto tempo. Grazie a Padre Matteo, il maligno è impotente contro la Madonna. Gli esofilmi regolarmente. Ti comandi in nome di Dio, rispondi alla potenza di Padre Matteo. Intervieni in questo momento, quella persona si è bloccata di colpo. Dice che noi lo invochiamo apposta, invocando il Padre Matteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.